Nei giorni scorsi è arrivata la buona notizia per il futuro del calcio sassarese. Il gruppo Abinsola ha trovato un accordo con il presidente della Torres, Salvatore Secchi, dando vita a una collaborazione che partirà dalla prossima stagione per la felicità dei tifosi torresini e non solo. Intanto la Torres si prepara al match casalingo di domani per la prima giornata di ritorno contro il Carbonia. Dopo la sconfitta rimediata la scorsa settimana, i ragazzi guidati da mister Graziani hanno voglia di riscatto. La classifica fa paura e solo un cambio di rotta nella seconda fase del campionato potrà salvare il rosso-blu. Torna in campo il sassari latte dolce dopo un weekend di sosta forzata a causa del rinvio della trasferta campana in casa del Giuliano per alcune positività riscontrate all'interno della squadra avversaria. La vittoria casalinga nell'ultimo match contro Gladiator ha dato tanta fiducia al gruppo. Queste settimane sono servite a mister Fossati per conoscere bene la squadra e soprattutto per limare i meccanismi tattici e integrare al meglio gli ultimi arrivati Cristian Calì, Luis Mucai e Marcos Sartor. Domani appuntamento alle ore 14.30 al Basilocano di Senuri. In calendario c'è il match contro l'Arzachena. Domani in contemporanea anche la Torres femminile impegnata al Pepino Saudi Usini per la gara contro Cella Reggiana alla ricerca del terzo successo di fila. Domani in contemporanea anche la Torres femminile impegnata al Capito di Sartor.